Oggi è un giorno molto speciale per Simona Ventura e Giovanni Ter, poiché daranno inizio al loro matrimonio che si protrarrà per ben 10 giorni. Pensate un po'. I festeggiamenti inizieranno stasera nel centro di Milano con un mega party al quale sono stati invitati ben mille ospiti. Il tutto è stato curato fino ai minimi particolari dal wedding planner Enzo Miccio. Sarà un'occasione per celebrare l'amore e l'unione tra Simona e Giovanni. Le nozze ufficiali sono invece previste per il 6 luglio a Rimini, giorno che si prospetta ancora più emozionante. In quella data, Simona e Giovanni scambieranno i loro voti nunziali di fronte alle persone a loro più care, dando inizio a una nuova fase della loro vita insieme. Non solo oggi, è un giorno importante per il matrimonio e anche il compleanno di ter. Pertanto sarà un'occasione doppia da festeggiare per la coppia. Ecco la dedica di Simona per Giovanni sui social. Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo. per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive. L'abbiamo scelta insieme Giovanni, perché oggi è anche il tuo compleanno. Sei vita, amor, guida, protezione e energia. Ti amo infinitamente. Simona Ventura, famosa presentatrice televisiva italiana e Giovanni Terzi, imprenditore, sono una coppia molto amata e rispettata. La loro unione suscita grande interesse e attenzione da parte dei media e del pubblico, dato il loro status e la loro popolarità. Questo matrimonio rappresenta una tappa importante nella vita di Simone Giovanni e sicuramente sarà una festa indimenticabile. Per tutti coloro che parteciperanno, auguriamo l'oro duro radioso, insieme pieno di amore e felicità.